Grande successo per il quinto meeting Sardegna delle Fiat 500, organizzarlo il club di Florinas con un programma fitto di eventi iniziato lo scorso weekend e che si concluderà questo mercoledì con un'escursione alla Sinara. Motori accesi già da sabato con l'esposizione a Porto Torres in piazza Garibaldi delle 85 utilitari partecipanti. Oltre una trentina provengono da tutta la penisola, in particolare dal nord-est e dalle città di Padova, Mantua e Verona. Nutrita la presenza sarda con vetture e automobilisti venuti oltre che dalla provincia di Sassari anche da Cagliari, Olbia, Budoni e Oristano. Dopo il primo giorno e il percorso lungo la Litorania da Platamona a Porto Torres, ieri è stata la volta di un raduno statico a Florinas, dove i presenti hanno potuto usufruire delle strutture del paese a 30 km circa da Sassari. Decisamente più dinamico il tracciato di oggi. Da Florinas le 500 viaggeranno verso Bitti e Oliena, si inerpicheranno per i 1600 metri del Monte Maccione, per poi trasferirsi infine a poca distanza dal mare, nello scenario d'orgalese di Cala Gonone. È stato un successo di partecipazione, dichiara Roberto Vannini, vicepresidente del club Fiat 500 Florinas. Abbiamo consolidato i rapporti con le altre sezioni italiane e proprio con una di queste, Veronella, i promotori del meeting meditano se le condizioni sanitarie legate all'epidemia lo permetteranno di organizzare un altro raduno il prossimo ottobre.